Buongiorno a tutti, negli ultimi video abbiamo a intermittenza letto e commentato alcuni brani del diario di Giuseppe Bottai nella parte 44-48, ossia quella seguente alla seduta del Gran Consiglio del Fascismo, seguente a quello che sarebbe stato il finire del 43 con la Costituzione della Repubblica Sociale, il processo di Verona che avrebbe visto in contumace lo stesso Bottai tra gli imputati e tra l'altro tra i condannati a morte per alto tradimento, per una serie di reati afferenti appunto alla caduta del fascismo. Abbiamo letto quindi la giornata del 4 giugno, 4 giugno 44, in cui egli fa un po' l'analisi, la cronistoria di quelle ore di attesa barra trepitante incoscienza di quello che sarebbe successo dopo, egli come gerarca fascista, scampato alla vendetta neofascista della Repubblica Sociale, ma al tempo stesso possibile di sanzioni da parte delle ricostituite istituzioni democratiche e non se la sarebbe passata bene né da una parte né dall'altra, quindi sappiamo come una sorta di generazione di quei gerarchi che appunto votarono contro Mussolini il 25 luglio, diciamo che ebbero una certa difficoltà nel trovare una propria parte in cui trovarsi a proprio agio. È stato di fatto che lo stesso Giacomo Acerbo che scrisse un volume condannato a morte, due plutoni in esecuzione, una cosa del gesto, è uscito a memoria il volume, quindi che appunto era condannato sia da una parte che dall'altra, quindi come in qualche modo vi fosse una difficoltà di trovare una propria collocazione perché ci si era fatti nemici da tutte le parti, sostanzialmente aveva le decisioni, la volontà in qualche modo, il pentimento, possiamo dire, Bottai non va né difeso né accusato all'interno storiografico, va compreso sotto l'aspetto di analisi, poi ovviamente il giudizio anche politico è stato ampiamente critico nei suoi confronti, mi piace ricordarlo, 25 anni fa sotto la giunta Rutelli, vi fu un tentativo di onorare Bottai con una intitolazione di una piazza nei pressi di Valle Giulia a Roma vicino ai pressi di Villa Borghese, il ricordo anche della partecipazione, dell'interesse di Bottai per l'architettura, per la sua partecipazione, lì c'è appunto una delle facoltà di architettura tra l'altro dove aveva studiato anche lo stesso Rutelli, tra l'altro Bottai era stato governatore di Roma, ossia sindaco di Roma, quindi vi era un ideale legame con Rutelli, ovviamente proveniente da un'estrazione politica totalmente diversa, però appunto Rutelli fu accusato, fu bersaglio della stessa sua componente politica di centrosinistra in cui appunto diciamo ma che vuoi esaltare un gerarca fascista che può aver avuto dei meriti più o meno accettabili sotto l'aspetto della cultura, ma sempre gerarca è, sempre le leggi razziali in qualche modo accettato, sempre la guerra accettata, quindi diciamo seppur critico sotto tanti punti di vista è comunque stato uno dei collaboratori principali di Mussolini, quindi su Bottai mi rendo conto che il dibattito è aperto e ovviamente non è possibile fare sconti di nessun tipo, nonostante questo è una fonte molto interessante, un personaggio che ci racconta tanto e ci racconta tanto anche sotto l'aspetto di analisi interna del fascismo, non era un yes man potremmo dire rispetto a tanti altri che magari si sono anche arricchiti, egli ha avuto dei momenti di fortuna, dei momenti di sfortuna, ripeto, in qualche modo è sempre avuto dei cicli, il ciclicamente ha sempre avuto poi degli incarichi importanti, però appunto questo ci offre anche l'occasione per andare a capire la varietà dei gerarchi che seppur responsabili di importanti addebiti sotto l'aspetto politico, penale eccetera, non erano tutti uguali, quindi bisogna questo andarlo a riscontrare, quindi è fondamentale, se no veramente diciamo che tutti erano uguali, che Pavolini era uguale a Bottai, Bottai era uguale a Ciano, Ciano era uguale a Grandi, Grandi era uguale a De Vecchi o a De Bono, quindi è una generalizzazione che poco è utile e poco è veritiera della realtà variegata dei gerarchi. Dicevo, torniamo a Bottai, quindi mi è sembrato interessante andare a leggere un piccolo passo in realtà dell'8 giugno riguardante lo sbarco in Normandia, oggi è 6 giugno, anniversario dello sbarco in Normandia e vediamo cosa racconta Bottai però un paio di giorni dopo. Bottai stranamente il 6 giugno lo salta, passa dal 5 al 7 e i temi a cui vengono dedicate queste giornate sono essenzialmente il passaggio dal regime di occupazione a quello di libertà, diciamo chiamamolo democratico, ancora in realtà non vi è una definizione chiara, non si può essere che dalla sera alla mattina vi è la democrazia o la libertà in tutta la sua pienezza, però vi è il tema di una rigenerazione delle istituzioni politiche, sociali e ovviamente Bottai ha delle difficoltà, perché appunto passa dall'essere clandestino per essere ricercato dalle autorità nazifascista ad essere in qualche modo ricercato da quelle post fasciste, democratiche, quindi chiamiamole come vogliamo, badogliane, quindi in qualche modo possiamo identificarle. Nonostante ciò, nonostante che i temi siano prevalentemente dedicate a queste priorità, egli trova il tempo anche a margine di affrontare temi di guerra guerreggiata, quindi dice succede questo, la caccia agli fascisti, la rigenerazione, nuove idee, nuovi sviluppi eccetera, via il vecchio, avanti il nuovo, parliamo anche di guerra. Quindi 8 giugno, poi magari potremmo affrontare in un altro video, recuperiamo i giorni quindi dal 5 a magari anche fino al 10, interessanti in cui va a scandagliare queste specificità della realtà romana, delle ore, dei giorni successivi all'arrivo degli anglo-americani. Quindi 8 giugno, nella serata ansia di questi giorni non ho registrato alcuni fatti maggiori e minori della guerra e della politica, quindi questa è importante un'aggiunta a quello che ha raccontato su altri aspetti. Da 3 giorni è in atto lo sbarco anglo-americano in Francia tra la penisoletta di Cherbourg e il porto di Le Havre. Operato con una quantità incredibile di mezzi, si è già affermato su Urna Costa, su una fascia costiera che raggiunge verso Caen una profondità di oltre 10 km. Quindi è interessante anche capire come l'8 giugno arrivino questo tipo di informazioni, ovviamente picolate dalla stampa alleata che in qualche modo cerca di enfatizzare questo evento anche in discorso di propaganda nei confronti del fronte italiano. Però è interessante che arrivi a bottare queste informazioni e bottare la riporti sul suo diario. Eisenhower, comandante in capo, è anche lui sbarcato. Dall'altra parte Hitler ha assunto il comando delle operazioni facendo affluire le riserve ufficialmente definite, e non si sa perché, tecniche. E poi basta di finire poche righe la questione italiana, prettamente del fronte italiano. In Italia prosegue la ritirata tedesca a nord di Roma, si combatte sul lago di Bracciano in direzione di Viterbo, movimenti più lento sul fronte adriatico. I germanici si vantano in un comunicato della DNB di avere, tra virgolette, di avere costretto gli alleati ad occupare Roma, finisce il virgolettato, mentre Mussolini ha indetto tre giorni di lutto nell'Italia a lui soggetta. Quindi è interessante, seppur ripeto, con un aspetto meramente telegrafico di annotazione doverosa sull'aspetto di politica generale, lo sbarco in Normandia è un evento importantissimo e lo è acclarato adesso, dopo tre giorni, si è capito che non è soltanto un diversivo, che non è soltanto un'operazione di minore entità, ma è l'apertura del cosiddetto secondo fronte, quindi che tanto e tanto e in maniera così determinante sarà fondamentale per gli equilibri di quello che sarà l'ultimo anno di guerra, non sia la consapevolezza che la guerra finirà in Europa meno di un anno dopo, però già siamo ben piazzati nel capire come questo evento ha appena poche ore, pochi giorni dall'inizio, che è un evento epocale, che in qualche modo ha sconvolto gli equilibri dell'assetto europeo e quindi anche della difesa dell'asse. Quindi mi è sembrato interessante, in un giorno in cui si parla tanto di, ci saranno oggi tante occasioni per tanti post, tante riflessioni sullo sbarco in Normandia con delle, anche magari delle informazioni note, e io ho pensato oggi di fare qualcosa di nuovo e quindi dare la voce a Bottai, che seppur non abbia nessuna influenza, nessuna autorità, nessuna pertinenza specifica con lo barco in Normandia, però ha una sua collocazione all'interno ovviamente di una realtà prettamente locale in questo momento, siamo nella realtà di Roma, è una realtà in cui appunto vi è da pochi giorni la liberazione della capitale d'Italia e che in qualche modo si va a definire una nuova situazione continentale che appunto in qualche modo andrà a investire nel bene o nel male, anche il front italiano. Detto questo, quindi vi rinvio ai prossimi giorni che inquadreremo anche altri argomenti, vi ho promesso ieri il discorso di Senise, lo riprenderemo sulle gerarchie della polizia tedesca a Roma, Kappler, Dolman, quindi sono temi fondamentali che in qualche modo ci vanno anche ad aprire degli spiragli inquietanti ma sicuramente di grande di grande interesse. Quindi ripeto, come al solito, mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!